Grazie alla mostra di inaugurazione di domani, sarà ancora molto più esplicito questo concetto perché ci sarà veramente la disgregazione, in qualche modo la destrutturazione, quindi distruzione totale del libro, ma tramite ciò ci sarà proprio, come dire, in qualche modo la totale e più assoluta e sincera celebrazione del concetto stesso di libro. To you. Dunque, visto che il tempo di soluzione non è tantissimo, vorrei chiedervi qualcosa su una vostra recente esperienza che forse può chiudere il cerchio anche di questo nostro breve incontro, e cioè della vostra partecipazione alla Biennale di Venezia. E mi sembra che anche questo evento sia, in un suo modo simbolico, nel senso, il suono di Magretti Senenian che penetra all'interno dell'apparato istituzionale dell'arte, quindi la mia natura. E soprattutto della laguna, diciamo che emette queste, che permea la laguna, emettendo queste emanazioni all'interno. E poi è stato importante e molto gratificante poter aprire con tre giorni di performance il patrimonio francese. E quindi da voi magari vorrei, come hai detto tu, ho apprezzato il fatto che tu l'hai notato il fatto che i Katies Senenian sono entrati in un contesto totalmente istituzionale come la Biennale. Katies Senenian. E l'hanno notato molto anche gli attenti lavori e i fotonati legislatori dei giorni di apertura. Perché, in effetti, in ambito artistico, nel tratto delle arti visive, la musica è sempre ritenuta come un ultimo fanalino di coda, anche da Chisica Fessa Performer piuttosto che è il sound artist. La nostra esperienza è stata totalmente differente e ovviamente la mia firma, in effetti non poteva anche funzionare in questo modo per noi, anche perché aiutati dal co-curatore del progetto che sta a paglione francese di Stradireland, Christian Marti, ci è stata data carta bianca per agire proprio sull'intera struttura architettonica del paviglione e fare assolutamente tutto ciò che volevamo con qualunque strumento volessimo, potendo registrare tutto il giorno o alle ore di registrazione e più che altro, la cosa che sin dall'inizio ci ha veramente persasmati, è il fatto che noi avessimo la possibilità di essere veramente sommersi da baranghe di pubblico, da baranghe di gente che entrava nel paviglione e usciva e veniva storbita dai nostri suoni, usciva storbita ma usciva felice e andava a complimentarsi con Stradireland, in effetti poi la riprova è stata quando rimamo fermati in qualunque parte di Venezia ci trovassimo anche di sera, cioè fuori dai luoghi comuni di questa manifestazione artistica, venissimo per la gente da qualunque o anche da curatori entusiasti increduli del fatto di aver assistito a una performance sonora di quel tipo, cioè così potente e così potente forte e sforzante per loro abituati appunto all'ambito artistico a cose molto ma molto più concettuali, molto più… Anche se in realtà era totalmente concettuale… Sì, la nostra realtà è molto concettuale ma ovviamente le nostre radici del punk non non potremmo mai nascondere, ci scorre male e ne andiamo fiede, quindi anche nelle quali più concettuali la parete ruida ci sta sempre… e quindi questo ha fatto la differenza per molti qualche dominante e per noi è stato molto gratificante, abbiamo intravisto un variore di speranza l'attore onestamente, vogliamo ammettere, gli ultimi anni ci hanno un po' scoraggiati di poterne vedere interesse da… in certi contesti verso un'entite di musica soprattutto, che fosse performativa o meno, comunque musica così radicale, così libera da qualunque tipo di schema. di stereotipo anche? Sì. E se non so, adesso è congiunto che mi avete fatto in mente una cosa, rilocando quei giorni della Biennale, ma che giorni qui noi stavamo completando questo volume, perché questo è un aspetto che ancora non è noto, ma che possiamo liberare. Non lo dico, non a caso, un'altra cosa che mi ha colpito parecchio, è proprio nei giorni immediatamente precedenti a questo impegno così importante, anche con, immagino, una qualche preoccupazione nel senso positivo, se non ti preoccuparsi di quello che si andrà a fare lì, Maurizio e Roberto si sono dedicati tantissimo in quegli stessi giorni al lavoro sul libro, perché l'obiettivo è proprio quello di presentarlo a Biennale, e quindi l'abbiamo chiuso facendo quella che, per come l'ho vissuta io, è stata quasi una sorta di performance che è durata... Esatto, giorno e notte, sì, giorno e notte, proprio come le performance più estreme, ecco. che ha prodotto poi questo risultato che, in maniera molto rocambolesca, è stato fisicamente recapitato in quel dio inizio, proprio nel momento in cui il servizio è impossibile. Esattamente. E con, insomma, generando una serie di reazioni che ci hanno portato molto piacere evidentemente. rispetto all'attenzione, rispetto anche a quanto poi questa attività possa aver colpito chi opera, diciamo, nell'ambito artistico e culturale a livelli molto alti, pensando a questo non posso fare a meno di citare alcuni contributi importanti che sono pure ospitati in questo volume, che sono i contributi di Tonier, di Ken Owens e la prefazione preziosissima di Philippe Robert. Senza voler rubare troppo tempo, perché appunto adesso ci aspetta la performance, anche io non vedo l'ora di assistere. Però io vorrei semplicemente citare poche righe che, secondo me, sono densissime di significato. Le cito in italiano, anche se ovviamente il testo è stato scritto in francese, ed è stato complicatissimo tradurlo, sia in inglese, come lo trovate anche nel libro, e sia in italiano, perché Philippe Robert è uno scrittore che ha una capacità espressiva, una profondità anche che è difficile da rendere in un'altra lingua. Però riesce a concentrare in poche parole un po' tutto quello che abbiamo detto e anche di più probabilmente, perché sono parole particolarmente pregnanti. E lui, appunto, parlando del lavoro di Mechetti Semelien, dice appunto in questa prefazione questo. che usano il loro vasto mantra creativo, e sotto il nome di Mechetti Semelien, che Praterino Alizio e Roberto Paglio offrono alle pulsazioni fondamentali di risuonare in armonia con il cosmo, inventando passaggi verso mondi interiori in cui il tempo e lo spazio orientano in differenti sistemi di coscienza. Il fondamento e l'orizzonte della ricerca del piano di loro attività, musicale e visiva, testano il nostro rapporto con l'eternità, invitando a sperimentare un approccio diverso da quello della nostra memoria orizzontale, al fine di vivere al contrario alla verticalità del tempo e dello spazio, dove suoni e colori, luci e forme, energia e coscienza si fondono in un'unica entità. Io penso che questo non si possa aggiungere nulla perché dice tutto, lo dice la maniera migliore possibile e lo dice con una intensità che mi ha veramente colpito, perché per dire questo di loro, per dire delle cose così profonde, ci deve essere una conoscenza e una sensibilità che appunto soltanto grandi personaggi come appunto Filippo Roberto possono dimostrare. Però questo necessita anche di un rapporto di conoscenza approfondito, quindi sappiamo che se Roberto e Maurizio magari ci dicessero anche come sono nati questi contributi, come è stato possibile che poi personaggi di questo libro si prestassero a contribuire a questo lavoro e lo facessero anche molto volentieri, con uno spirito di partecipazione e di coinvolgimento assoluto. Questo perché credo che completi un po' il quadro anche rispetto a quelli che abbiamo chiamato gli interlocutori di Mighetti Zeneglie o comunque le persone con cui si è riusciti a instaurare un rapporto di scambio in qualche modo. Quindi vi chiederei appunto di spiegare un po' tutti anche come sono nati queste, come sono sorte queste disponibilità e che tipo di rapporto avete voi anche a livello personale con chi vi potete, con le altre persone con cui avete a che fare nei vari ambiti delle vostre attività. Nello specifico con Filippo Berg, ma in realtà si può fare davvero quasi un discorso collettivo. Penso che è tutto nato in maniera estremamente casuale, proprio intendendo una casualità proprio alla John Cage. ovviamente sotto la benedizione di Sandra, altrimenti tutto ciò non sarebbe stato possibile. in realtà il nostro incontro con Filippo Berg è proprio nato in maniera totalmente spontanea, come nascono spontanee alla fine tutte le nostre interazioni con appunto vari personaggi. in realtà è un'accusa spiegare. E anche se stagione di un'accusa spiegare un'accusa spiegare.